Abbiamo circa 400 atleti, interagiamo nel sociale, ci tengo a dire che il nostro paese ultimamente stiamo lavorando veramente bene e stiamo cercando di fare per grandissime cose. Stando in un territorio che da anni è sempre stato martoreato, siamo gli unici, questo devo dire anche grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri, capitanata dal generale Domenico Cagnazzi, che facendo proprio questi progetti stiamo cercando di rompere questi indugi dal bene al male, però ci riusciremo, nessuno ci abbatte. Siamo tutti quanti fratelli di sport.